Buongiorno, buon martedì 9 di ottobre. Ben trovati alla nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Alle mie spalle già vedete il centro nella edizione di Pescara. Allora, vediamo anche il titolo di apertura. Targa antifurto, guerra ai ladri di biciclette. Pescara, via il servizio gratuito di marchiatura dei mezzi a due ruote. Torneremo nelle cronache di Pescara tra poco. Andiamo nel taglio alto. Prima, con il caso 24-25 e i fondi del masterplan, il Ministero ammette a sorpresa il blocco e cancella l'Abruzzo in tutta la regione. Sicurezza in classe, fondi per 19 scuole. Ecco quali sono l'altra notizia del taglio alto. Andiamo adesso a vedere insieme lo spazio delle cronache. A Pescara il progetto Colli via libera a nuovi negozi e parcheggi. Nell'area verde abbandonata tra Via Monte di Campli e Strada Vecchia della Madonna ai Colli sorgeranno presto due strutture commerciali, un parco pubblico dei parcheggi ed una rotatoria. A Montesilvano poi pala congressi, miniera d'oro per il comune, incassati circa 140 mila euro con gli eventi. E poi Pescara a calcio e le DS Leone, gruppo e umiltà, i nostri segreti per quanto riguarda il Pescara capolista. E poi ancora Scaffa reagisce, basta con le violenze. Folla al Consiglio Comunale straordinario, convocato sul tema della sicurezza. Andiamo a vedere poi a centropagina la fotografia. La cronista pescarese aveva 56 anni, aveva sconfitto un tumore, muore all'improvviso la giornalista Loredana Ranni. E poi ancora all'interno si parte giovedì via il premio Borsellino con 80 ospiti antimafia. Ci sono anche i giornalisti Daniele Piervincenzi e Marilena Natale, la cronista sottoscorta, tra i vincitori del premio Borsellino che parte giovedì con incontri tra Pescara e Teramo e ben 80 ospiti antimafia. Andiamo nel taglio basso adesso con il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la strada meno battuta scelta da Federico. Si tratta di Federico Di Orio, 28 anni, ed è un ingegnere aerospaziale di San Nicolò a Teramo. Pochi giorni fa, durante l'incontro dei giovani con Papa Francesco, ha raccontato la sua storia, cioè di aver rifiutato un lavoro che prevedeva la costruzione di missili e armi per la difesa. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre edizioni provinciali del quotidiano d'Abruzzo. L'edizione teatina è in apertura, la provincia al voto e sfida a tre chieti, tra Di Primo e Pupillo, Spunta, un altro candidato è Scopino. Poi andiamo a vedere nelle crona che, sempre dal capoluogo e il commercio riparte, aprono cinque nuovi locali. Poco tempo hanno aperto appunto cinque esercizi, nel centro è tornata a nuova vita la pasticceria della Movida, lo scalo pizzerie e ristoranti di sushi. Poi ancora Ortona, l'obitorio è K.O. Salma trasferita in un altro comune. A Lanciano, piano asfalti, via i lavori per 700 mila euro. Andiamo a vedere sotto la fotografia, di Lello, depresso, sconto per l'omicidio. Vasto, ecco le motivazioni della sentenza sul delitto dell'ISA, appena ridotta a 20 anni. A centro pagina, invece, la squadra di Chieti pronta al debutto. I ragazzi dei Rebels imparano la vita giocando a rugby. E qui vedete proprio un allenamento degli under 16 sul campo di Brecciarola. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro. Adesso passiamo all'edizione Teramana. In apertura la cronaca giudiziaria, Curti Di Pietro condanna definitiva. La Cassazione conferma 6 anni ciascuno per il crack da 20 milioni. Poi ancora, nello spazio delle cronaca, allarme sui social, ondata di furti nelle case di Tortoreto e psicosi da furti in appartamento. Sono almeno 7 i colpi, alcuni falliti, segnalati tra il centro storico e altre zone collinari durante lo scorso fine settimana. Poi a Teramo, non fa vedere i figli al padre, donna a giudizio. E poi ancora Roseto, concessioni per 30 anni nell'autoporto. Andiamo a vedere sotto la fotografia, oreficeria chiusa per un errore. Nel Montorio, il caso nasce dalla diffida della questura, una ditta che però non esiste più. A centropagina, la giornata del diabete a Isola del Gran Sasso. In 400 si misurano la glicemia davanti al santuario, grazie all'iniziativa del Lions Club a San Gabriele. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. In apertura la ricostruzione, pratiche ferme da 1500 giorni, molti edifici del centro come 9 anni fa. Nelle cronache ad Avezzano, Tired spietato 6.250, le multe fatte in un solo mese, in via 20 Settembre, dove nell'arco di un mese dall'attivazione del sistema di rilevamento fotografico Tired sono stati certificati 6.250 passaggi con il rosso. Coravezzano, caso Mirasole, il 27enne ucciso da una overdose. Poi ancora l'Aquila, il comune perde le chiavi dei cavò. Andiamo a vedere sotto la fotografia, ristoratore trovato morto in casa, a Prato la Perigna, il 63enne liberatore stroncato nel suo letto da un malore. Andiamo a vedere anche la fotonotizia di centropagina. Scopito, svaligio nel bar durante la veglia, funebre a Greco, i ladri rubano nel bar durante la veglia, il ciclista morto a Modena. Nella foto vedete la proprietaria, leggiamo dalla didascalia. Cambiamo testata, passiamo sulla prima pagina del messaggero. Andiamo a vedere l'inserto Abruzzo del quotidiano romano. In piazza contro il governo, il titolo di apertura, Autostrade, il governatore Lolli dice no alla messa in sicurezza con i soldi della regione. In ballo 250 milioni di finanziamenti del Masterplan, con Lolli che dice sono impegnati per altre opere. E poi ancora a Pescara, a Redi risulta scontro in aula sui fondi, tra virgolette, spariti. Tra i fondi del Masterplan c'erano anche i 12 milioni di euro destinati alla riqualificazione dell'area di risulta, con il progetto che è proprio in questi giorni in discussione nel Consiglio Comunale. Scendiamo a centropagina. La pistola trovata al pizzaiolo usata per le minacce su Facebook. Bellisario in silenzio davanti al giudice, disposti gli arresti domiciliari. Poi ancora favoriva il marito, bufera sulla dirigente, dirigente Solerta, sbrigare le pratiche relative a un funerale currato dal marito, ma anche più che efficiente. Poi ancora a centropagina, il ricordo della collega Ranni Loredana, una morte sciocca, le prime luci di ieri. Un malore ha portato via Loredana Ranni, giornalista pescarese del gruppo RCS. Di spalla, fake news a tavola, ecco come evitarle. L'evento si svolgerà il 31 ottobre a Pescara e nella Camera di Commercio, un incontro nazionale sul mangiare sano e sui cibi sicuri. Nel taglio basso andiamo a Prata d'Ansidonia, il castello che rinasce, rescissione consensuale della vecchia convenzione e poi un nuovo bando entro il 2019. Sono i passaggi che il Comune si appresta a fare per porre finalmente la parola fine, o meglio inizio all'annosa e incredibile vicenda di Castello Camponeschi. Adesso andiamo a leggere il taglio alto con il Fuzzal a Quessapone, quattro capitali in Lizza per le top 16 di tutta Europa. E poi la Federcalcio con la brussese Gravina, candidato unico alla presidenza e ancora lo sport con la Serie B, Pescara, Tesoro, Macin, Chieti, Arriva, Lucarelli. In Serie Diva stesi Avezzano confermano Palladini e Giampaolo, Teramo senza vittoria nel mirino Campitelli, colpe non solo sue. Lasciamo anche il messaggero, adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura a Curti di Pietro confermate le condanne. Sei anni di pena, due imprenditori teramani per una bancarotta da 20 milioni di euro. E poi ancora il cadavere mummificato di Martinsicuro, DNA e autopsia per identificare il corpo. Siamo nel taglio alto, Giulianova ha già iniziata la campagna elettorale dopo le annunciate di missioni del sindaco Mastromauro per candidarsi in regione. A Villa Pavone un tavolo sui lavori alla maxirotonda. E ancora di spalla la morte del baby calciatore e l'infermiere dell'ambulanza rischia il processo. Giulianova lei lo lascia e lui continua a perseguitarla. E sempre tra i richiami di spalla, Teramo incidenti causati dal semaforo spento. Nel taglio basso l'annuncio di Lolli Abruzzo pronto alla mobilitazione contro lo scippo, così è stato definito, del masterplan. Poi ancora a Teramo parte il restyling di una parte del cimitero di Cartecchio. E poi ancora a centropagina nella fotonotizia, Teramo attiva andalici sul leone di bronzo della villa comunale, sfregiata anche l'arte. Poi il commento di Marcello Mattelli, le nostre maxi emergenze. Si torna a parlare chiaramente del caso autostrade. Questa è anche la prima pagina della città che chiude questa breve rassegna dei titoli regionali delle nostre prime pagine. Adesso ci spostiamo sul nazionale, andiamo sul Corriere della Sera. In apertura il quotidiano di Via Solferino, mercati, tensione sull'Italia, manovra, lo spread oltre 300, giù la borsa, meno 2,4%. Di Maio attacca il presidente del fondo Salva Stati, Salvini accusa gli speculatori alla Soros. Savona, il ministro per gli affari con l'Unione Europea, che dice che l'Unione Europea va contro l'iceberg. Questo per il riassunto che il Corriere della Sera fa della convulsa situazione politica interna ed estera legata all'economia. E poi l'intervista Le Pen, io e Matteo alleati al potere, cambieremo tutto. C'è questa alleanza che torna fra la Lega e il Front National di Marine Le Pen in Francia, proprio per correre alle prossime europee. E l'editoriale firmato da Maurizio Ferrera, Europa e debito, l'azzardo che temono i moderati. Altra notizia di giornata, la protesta a Genova, la protesta dei commercianti e degli sfollati della Val Polcevera. Siamo prigionieri, la marcia per il ponte, con anche le richieste per cambiare il decreto predisposto dal governo. E poi economia, il premio a Nordhaus e Romer, allarme sul clima, Nobel agli studiosi del riscaldamento globale. Andiamo sulla Repubblica adesso, andiamo a vedere qual è la lettura del momento politico italiano. Spread oltre 300, borsa in calo, Salvini non sarà come in Grecia. Effetto condono, si teme un buco da 3,6 miliardi, leader leghista, fronte comune con Le Pen. E poi il commento di Massimo Giannini, la manovra alla prova dei fatti. Andiamo avanti con gli altri giornali. Andiamo sulla stampa, in apertura, Salvini e Le Pen, assalto all'Unione Europea, così il quotidiano di Torino. In Italia un lunedì nero per i conti, spread oltre 300, male la borsa. Savona dice ci aspettavamo di peggio in una conferenza stampa con i rappresentanti dei quotidiani esteri. La coalizione sovranista alle elezioni con il fronte della libertà per la Commissione si punta su Acheson. che sono l'analisi, nazionalisti senza frontiere, scrive Marco Zatterine. Poi in retroscena il governo studia un appello agli italiani comprate i BTP. Se le agenzie di rating dovessero tagliare il rating del debito sovrano italiano, ci potrebbe essere appunto questo appello ai capitali nazionali, ai risparmiatori italiani, a investire sul proprio debito sovrano. Andiamo adesso a centropagina. Il 28 ottobre il ballottaggio, le novità che il Brasile reclama appunto con le elezioni nel paese sudamericano, con il candidato dell'estrema destra che fa il pieno di voti, 46%. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il titolo di apertura. A Salvini i condoni non bastano mai a 500 mila euro. Alleati divisi, ma il Movimento 5 Stelle rimane contrario. Spinta da Forza Italia, la Lega boccia la rirottamazione delle cartelle. Sanatoria anche sulle imposte. E poi verso le urne, in che gruppo andranno? In Europa i 5 Stelle votano più con Sinistra e PD che con la Lega. Andiamo a vedere poi a centropagina. Sul ponte i sensori tra virgolette sbagliati. Gli sfollati chiedono certezze. I rilevatori sul Moncone e del Morandi non funzionano con pioggia o nubi. Ora a venire il Quotidiano Cattolico in apertura. Cantiere disunione. Il Fatto, l'allarme della Fondazione Bertelsmann sulle democrazie illiberali. Mentre aumenta ancora la tensione fra Italia e Europa. La ricerca Est è in crescita. L'autoritarismo Salvini con Le Pen contro Bruxelles. Spread che si impegna. E poi la fotonotizia di centropagine dedicata a Genova. A Genova in piazza. Basta attese. Accuse al governo. Le aziende ora rischiano la chiusura. E poi la chiesa con il sinodo. Abusi. Fare luce. Caso Viganò. Una montatura. Cicluna. Subito verità. Rettera di Ullet. Per quanto riguarda appunto le problematiche all'interno del clero. E poi andiamo sul manifesto. Eccolo qui. Il titolo tradizionale sulla fotografia. Bottega oscura. E il titolo con la foto di Marine Le Pen e Matteo Salvini nella conferenza stampa. Nella sede romana del sindacato UGL di Via delle Botteghe Oscure. Vertice fra Salvini e Le Pen. Prende forma l'alleanza sovranista e xenofoba per le elezioni europee. Ma la propaganda del leader leghista scivola sul video di un pregiudicato contro il sindaco di Riace. Nel taglio alto Genova si arrabbia. Il decreto cambia per quanto riguarda le problematiche dopo il crollo del ponte Morandi. Proseguiamo con il messaggero. Vedete i temi insomma sono abbastanza ricorrenti questa mattina sui giornali. Soprattutto quelli economici. Impennata spread giù le borse. Manovra a verifiche ogni tre mesi. Piazza Affari la peggiore d'Europa. Meno 2,43%. Trascina giù le altre borse del vecchio continente. Differenziale a quota 303. Era salito fino a 310. Savona sul caso Italia. Controlli periodici sui conti. Ma il PIL crescerà del 2%. Scrive Osvaldo Dei Paulini. Noi e Bruxelles i mercati dimostrano che non c'è complotto. E poi ancora Salvini e Le Pen. Ecco il patto sovranista. Attacco a Macron per i selfie svestiti. La carta marine per guidare la nuova Unione Europea. Scendiamo a centropagina. Ponte cambia il decreto. Sia le grandi aziende sfollati contro il ministro delle infrastrutture Toninelli. L'antitrust giudica giusto escludere solo autostrade. Genova ha contestato il ministro. Basta dire bugie. Poi altre accuse a Ronaldo. Ma lo sport europeo non imita Hollywood. Calcio batte il Me Too. CR7 verso il pallone d'oro. Cinque finora quelli vinti. Proseguiamo con il tempo. Ancora quotidiani romani. Il titolo è il dramma dei bamboccioni. Andiamo a vedere perché. Il governo valuta se dare il reddito di cittadinanza ai giovani che restano a casa, figli di papà al bivio, accettare la chiamata al lavoro oppure restare a oziare sul divano. Le penna il tempo. Crolla l'Unione Europea, non l'Europa. EPM contro me e Salvini. Poi ancora a centropagina. Un focus sulla capitale. Che monnezza di capitale. Cassonetti stracolmi e raccolta a singhiozzo. La sindaca Raggi lascia i rifiuti. Come li trova? Su Libero adesso. Centri per l'impiego impreparati. La sagra degli ignoranti. Negli uffici che distribuiranno il reddito di cittadinanza. Il 13% dei dipendenti. Alla licenza media. Il 56% il diploma. Solo 8 mila in tutta Italia. Un quarto però è concentrato in Sicilia. E trovano lavoro al 3% di chi gli chiede aiuto. I dati della Guardia di Finanza sono fasulli. Sei poveri. Su 10. Dunque questa è la lettura di Libero. Contrario al reddito di cittadinanza. Così come impostato dal governo. Andiamo sul giornale. Tempesta sui mercati. Ci bruciano i soldi. Borsa a picco. Berlusconi. Il governo speriamo non duri. E Genova va in piazza contro l'esecutivo. Così il quotidiano della famiglia Berlusconi. Andiamo sul secolo d'Italia. Il giornale che fa riferimento a Fratelli d'Italia. In apertura si parte il primo dicembre. La foto è quella del Ponte Morandi. Se la giustizia ci dà la possibilità di lavorare sul cantiere saremo pronti. in 45 giorni, ha spiegato il sindaco di Genova e il commissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Nel primo piano del taglio basso, le facce del debito pubblico, una storia lunga decenni. E poi il salvimaio non è fuitina, gli appelli non servono. Aquarius ha la bandiera, stavolta è quella turca per quanto riguarda i migranti. Andiamo sulla verità. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. La guerra dei burocrati fa cadere la borsa. i fustigatori europei dell'Italia presi a sberle dai loro elettori. Il partito di Dombrovski passa dal 21 al 6%. Prima di lui disastri pure per Juncker. Moscovi sì, disse il Blaum, ma il presidente della Camera FICO corre a omaggiarli. A centropagina, questa foto perplessa di Angela Merkel, ora si inchioda anche l'economia della Germania. Centropagina, sì del Garante e Benetton non ricostruiranno il ponte. E a 55 giorni dal crollo del Morandi, i genovesi sfollati contestano il ministro Toninelli. Basta, vogliamo risposte, grida la piazza. Sul mattino di Napoli adesso, in apertura, centri per l'impiego flop. Napoli pratiche a penna. L'inchiesta verso il reddito di cittadinanza, computer rotti e addetti vecchi. Di Maio studia il modello tedesco rispetto all'Italia, 92 mila dipendenti in più. Poi, Piazza Affari perde il 2-4, manovra impennata dello spread. Savona pronti a correggere. Anche qui c'è l'asse sovranista, Salvini Le Pen. Andiamo a centropagina, lezioni in spiaggia e nel sottoscala sospesa la preside, lo scandalo del liceo del Vomero. Siamo in Campania e poi a centropagina. Non fermate il riscatto di mio fratello, la lettera alla sorella del calciatore ucciso, scrive ai magistrati. Andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport. In apertura parla Sheva, un derby da Champions, secondo l'ex asso del Milan. Tu per tu con il tecnico dell'Ucraina che domani sfida l'Italia e che in rosso-nero ha vinto tutto. L'Inter è di ferro e adesso corre. Il Milan mi esalta. Cutrone è bravo e col Pipita crescerà. Due squadre sulla strada giusta. La resa dei conti domenica 21, i car di Higuain, un 9 e di troppo i voti di Hernan Crespo. Un altro 9 d'eccezione del passato. Andiamo nel taglio alto. Ronaldo gioca più di tutti e spuntano nuove accuse. La polizia di Las Vegas starebbe indagando sul racconto di altre tre donne. Sul Sun esce il nome di Rubi. CR7 intanto primo in Serie A in Europa, non sta mai fuori. Poi ancora Paratici lo difende. Juve sempre con lui. Il DS bianconero sul suo maestro Marotta. Gli devo tutto. Andrà all'Inter. Non mi stupirei. Il dirigente intanto si schiera con l'asso portoghese. Andiamo poi nel taglio basso del giornale. Oggi il club saprà dove giocare. Parliamo dell'Entella. Ecco Cassano. Quanti scarsi in Serie A. Subito si fa notare il talentino di Barivecchia. E poi dopo l'esonero di Danna. Rispunta Ventura. Il Chievo lo vuole. L'ex CT ci pensa. L'entusiasmo e la voglia di rivincita. L'hanno convinto il club veronese. L'alternativa è di nuovo Iacchini. Il presidente del Torino. Amarezza Cairo. Arbitre e VAR. Mancano tre punti. Senza quegli errori saremmo quarti con la Lazio. Belotti escluso dall'Italia rispetto alla decisione di Mancini. Queste le parole tratte dall'intervista che c'è stata proprio ieri a Radio Anch'io Sport su Radio 1. Andiamo sul Corriere dello Sport. In apertura vedete la foto di Cristiano Ronaldo. Lo scandalo CRSX di Laga. Ne discute tutto il mondo. Cristiano in croce. Europa divise. Inglesi prudenti. Portoghesi schierati. Spagnoli spaccati dal tifo. Intanto in borsa il titolo Juve continua a perdere terreno. I legali di Katrin accusano. Coinvolti altre tre ragazze. rispunta Rubi Rubacuori. E poi ancora in Milano è un derby da godere. Il bello di Icardi e Iguain. Si scatena la caccia al biglietto per la sfida tra i due fuoriclasse. San Siro sarà ancora una volta sold out. Nel taglio alto lo rei insigne. Sondaggio sul nostro sito. Chi è l'italiano più forte? Lorenzo vince nettamente. Il CT Mancini lo esalta. Andiamo poi nel taglio basso. De Rossi si ferma per una frattura. Brutta sorpresa. Falange del piede rotta per il capitano della Roma. Ventura ricomincia dal Chievo. Potrebbe essere questa la panchina dell'ex CT della Nazionale. Real e Bayern. Anche le grandi esonerano. E poi Ferrari. Una svolta di nome Leclerc per quanto riguarda la seconda guida della rossa. Andiamo su tutto sport ora. Il titolo di apertura. Giù le mani da CR7. Il giornale si schiera a fianco dell'asso portoghese. Katia, la sorella di Cristiano, lancia su Instagram l'hashtag. Ronaldo. Stiamo contento. In qualche modo fino alla fine questo hashtag lanciato sui social. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo con gli esperti di Meteo 6. Ripartiamo allora con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Una doppia pagina del centro dedicata alla notizia del giorno. Lo scontro politico in atto fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Fra Regione Abruzzo e Governo sui fondi del Masterplan. Sul taglio di questi da destinare alla messa in sicurezza dell'A24 e dell'A25. Allora vediamo il titolo nelle due pagine di primo piano dedicate a questo argomento. Progetti del Masterplan, fondi bloccati due anni. Il Ministero ammette. L'holl insorge, andremo a Roma. Il MIT ribatte, rimedieremo. Poi la battaglia dei sindaci abruzzesi. Sciullo, Borrelli e Rucci pronti a mobilitarsi. La protesta parte da Pesco Sanzonesco. Poi ancora l'altro fronte aperto. Sono ancora fermi al palo i 33 milioni per le frane. Dopo lo scambio di accuse fra Regione e Ministero dell'Ambiente è tutto fermo. Ma i comuni non possono più aspettare dal 2017 gli intoppi della burocrazia. Qui vedete l'elenco dei comuni a cui sono destinati i fondi per il distesso idrogeologico e le frane. Andiamo a vedere, come affronta l'argomento anche il messaggero, i pilastri che si sgretolano, autostrade, lolli, tutti in piazza contro il governo. Interventi per la sicurezza con 250 milioni tratti dal Masterplan. Quei soldi sono già impegnati per realizzare le opere. Ribatte il governatore protempore che teme anche ricorsi a catena da parte degli enti appaltanti. Nel frattempo completiamo anche la pagina abruzzo del messaggero. Centrodestra, i nomi di Fratelli d'Italia diventano quattro, oggi si riunisce l'esecutivo con Giorgia Meloni. E poi nel taglio basso Castello Camponeschi, i lavori possono partire, i lavori di recupero. Ma torniamo sul caso Autostrade, sul caso Masterplan, come lo chiama la città. Andiamo a vedere il titolo. L'Abruzzo è pronto alla mobilitazione con il virgolettato di Lolli, che parla di scippo da 200 milioni previsto nel decreto Genova. Di spalla, Renzo Di Sabatino, non capisco perché devono essere gli abruzzesi a pagare il conto. Così il presidente della provincia di Teramo è segretario del Partito Democratico. Risponde nel taglio basso Sara Marcozzi, nessuno scippo, le risorse saranno subito ripristinate. Il consigliere dei 5 Stelle spegne le polemiche, lo scandalo e di chi continua a fare polemica sulla sicurezza. Possiamo andare a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti sulla conferenza stampa di ieri, proprio del presidente della regione Giovanni Lolli. Per la messa in sicurezza delle autostrade e dei parchi a 24 e a 25, il governo vuole utilizzare i fondi del Masterplan Abruzzo del 2018-2019, destinati ad opere strategiche e alla mitigazione del dissesto idrogeologico nella nostra regione. Insorge il presidente vicario Giovanni Lolli, che parla di una vera e propria follia, preannunciando, in caso di un mancato passo indietro del governo nell'incontro che si terrà dopo domani, una mobilitazione senza precedenti di tutti gli abruzzesi a Roma. Qua si prendono per un'opera nazionale, che è tanto nazionale questa autostrada, che il canone concessore di 56 milioni se lo prende lo Stato, mica ce lo prendiamo noi. Quindi per far fronte alla manutenzione di un'opera straordinaria, si chiede di mettere la cassa alla regione Abruzzo, sottraendola a quelle risorse che già ci sono state assegnate e che l'Abruzzo, una volta tanto più virtuosamente degli altri, ha impegnato per il 70%. Oggi ho avuto modo di dimostrare che le opere non ancora convenzionate valgono 53 milioni di Euro. Quindi ammesso che ci vogliano prendere quelle, ammesso che sia giusto, gli altri 150 milioni, perché sono 250 milioni, tutto l'80% tocca a noi, dove li prendiamo? Li leviamo dal dissesto idrogeologico? Li leviamo dalle strade provinciali? Quindi abbiamo l'autostrada più cara d'Italia, che già ci paghiamo e sapete voi quanto ci costa. E addirittura adesso ci dobbiamo fare a carico nostro anche la maturazione straordinaria. Ma poi questi soldi vi verranno restituiti a partire dal 2021 fino al 2025. Intanto quello che è certo, leggendo le carte, è che c'è l'anticipazione di cassa e ci levano tutti i soldi adesso. Dove sta questa competenza? È una cosa abbastanza inquietante. Noi siamo la regione che sta più avanti, abbiamo caricato 530 milioni di Euro di progetti già caricati sulla banca dati del Ministero. Come li andiamo a cancellare, quei progetti? Ma ve li immaginate? Tra l'altro si va incontro a Contenziosi. È veramente una cosa delirante questa che hanno fatto. Gli aspetti politici di questa vicenda se la vedono quelli che fanno politica. Io guardo gli aspetti istituzionali e mi auguro che tutti i parlamentari abruzzesi adesso che va in conversione facciano emendamenti e lo facciano passare. E se l'emendamento non passa staranno insieme a noi. Io spero proprio che non succeda, che non debba succedere perché c'è tante cose da fare. E non certo la voglia di metterci a protestare ma se poco a poco dovesse succedere che non cambiano. Io sono pronto a farmi carico di convocare tutti gli abruzzesi a una manifestazione, ad una protesta vibrata perché non è possibile accettare. Ne va della nostra dignità. Direttamente collegato a questo argomento del masterplan, il caso Pescara con lo scontro in Consiglio Comunale fra PD e 5 Stelle. Risorse a rischio per l'area di risulta. Prosegue in aula il confronto sugli emendamenti per la riqualificazione dell'area di risulta della stazione centrale di Pescara. Alta tensione per i finanziamenti. Erika Alessandrini chiede lo stop del Consiglio. Va prima verificata la sorte dei 12 milioni, dice la consigliera dei 5 Stelle. Dura replica del sindaco. Lo domandi al suo governo. Sanno presutti il capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Sfacciataggine assoluta. Il territorio va difeso. Torneremo più tardi nelle pagine di Pescara del centro. Scusate del messaggero. Torniamo sul centro. La pagina Abruzzo parla di sicurezza in classe. Interventi per 5,8 milioni nelle scuole. Eliminazione delle barriere architettoniche. Ristrutturazione di nuovi impianti. 19 progetti finanziati con fondi statali. Nel taglio basso, la vertenza tua nelle mani del Ministero. Ieri il vertice in regione con i 55 interinali licenziati da Alessandro, caso scuola a livello nazionale. Andiamo ad aprire adesso la prima pagina di Pescara sul centro. Contro la targa contro i malviventi, ladri scatenati e con l'antifurto delle bici parte il servizio gratuito di marchiatura dei mezzi a due ruote utilizzabili anche dai non residenti via alle prenotazioni per la punzonatura. Poi la polizia blocca i ladri di autocarri dalla Puglia in trasferta per rubare. Allarme a Città Sant'Angelo, donna scompare da casa per nove ore, è stata ritrovata ad Atri e sta bene. Dunque storia a leto fine per fortuna. E poi ancora la città che cambia. Nuovi negozi, verde, parcheggio e i colli. Approvato il progetto della ditta Prorec per via Monte di Campli. Scendiamo, salvato il dopolavoro ferroviario, sia un emendamento al progetto per le aree di risulta, ma il consiglio è scontro. Abbiamo visto anche il perché. E poi ancora, orari dei vigili, riparte la protesta, è inviata una nuova diffida al comandante, i sindacati a Maggitti. Le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Proseguiamo con la tragedia della collega Ranni. Aveva 56 anni, addio alla giornalista coraggiosa, stroncata da un malore nella sua casa di Milano. Aveva sconfitto un tumore, incontrava i malati oncologici e dava loro forza. Andiamo ancora avanti con la festa di San Cetteo, libri, fumetto e mosaico. Pescara riscopre il patrono. Domani la messa pontificale in cattedrale con Valentinette e il cardinale Petrocchi. Don Francesco mi auguro che ci faccia riscoprire il cristianesimo con gioia. Proseguiamo. Una sfilata di moda per riaccendere Viale d'Annunzio. Iniziativa di successo fra sfilate, musica, comice e ballerini. È segnata la fascia di Miss, la più bella è Martina Di Marco. Nella pagina successiva, quella di Montesilvano, eccola qui. La città degli eventi, perché il Palacongressi è una miniera. 140 mila euro in nove mesi e l'incasso fatto appunto dal Paladin Martin. Fiere conveni, concorsi pubblici e feste. Da gennaio registrate 100 mila presenze con incassi destinati ad aumentare. Le manifestazioni in calendario sono solo 34. Federalberghi, struttura vincente, grazie alla vicinanza degli hotel. E poi nel taglio basso, lavori per 90 mila euro alla scuola Marinelli. È l'annuncio dell'assessore Parlione. Nella pagina successiva, ecco la carta famiglia, comune in aiuto dei nuclei numerosi, a Città Sant'Angelo e poi a Spoltore e Spropi per la strada mai fatta. C'è un esposto, e qui vedete la foto del tratto sommerso dalle erbacce. Andiamo nella pagina successiva. Di scarica vicino al fiume ne troviamo due al mese. Francavilla, Guardie Ambientali a Valle Anzuca, Eternit. Elettrodomestici, Materassi, zona bonificata di recente, vengono tutti a gettare rifiuti dai privati alle ditte. Questo purtroppo è un malcostume che un po' attraversa tutta la nostra regione. Nel taglio basso, nuovo gruppo consigliare a Pianella. Filippone si oppone alla nomine dell'agenzante capogruppo e la lista civica si spacca. Andiamo nella pagina della Val Pescara. Il consiglio straordinario a Scafa, che reagisce la violenza. Non vincerà, comune affollato per l'assise dedicata alla sicurezza. Al sindaco il mandato per siglare una convenzione con le forze dell'ordine. E poi nel taglio basso, Mensa, lavoratrici senza contratto. Loretta Prutino, la CGL a difesa di 5 part-time, assunzioni di formi dal bando. Prima di vedere questo servizio andiamo anche a vedere Bussi sul Tirino, bonifica terreni della Solvè. Lolli chiede un incontro al ministro Sergio Costa. Ma torniamo a Loreto e andiamo a vedere lo sciopero di queste lavoratrici del servizio Mensa. Alessandra Di Simone, ancora problemi nell'area del Pescarese per quanto riguarda la Mensa? Questa volta è un problema per i lavoratori. Sì, di nuovo problemi, perché evidentemente le stazioni appaltanti non considerano importante il lavoro del personale e i dipendenti. Come sempre in questo cambio di appalto, che dovrebbe partire oggi, abbiamo un'azienda che si aggiudica un capitolato di appalto a una gara con delle condizioni. Le condizioni precise. L'articolo 6 dice che i lavoratori devono essere prioritariamente assunti, quelli già presenti, ai quali deve essere applicato un contratto collettivo che il turismo pubblica esercizi. Peraltro il capitolato specifica anche le ore di lavoro che fanno le lavoratrici. L'azienda viene qualche giorno fa, comunica alle lavoratrici che le avrebbe assunte con un contratto che appunto non è quello da capitolato, ma quello delle cooperative, e propone loro una riduzione del 40%. Questo significa una riduzione non solo degli stipendi, ma anche del servizio, noi pensiamo. Perché qui ci sono ovviamente mamme che affidano i bambini alla scuola e che pretendono un servizio di qualità, visto che il prezzo rimane quello dell'anno scorso. Abbiamo avuto un incontro giovedì, perché non si trovava la quadra con l'azienda, che Premetto non ha mai voluto parlare con il sindacato, quindi noi non abbiamo mai avuto modo di parlare con loro. Al comune si è presentato un responsabile dell'azienda che ha detto di non avere mandato la trattativa. Il sindaco però ci aveva assicurato che questa mattina non sarebbe entrato nessuno, se non dei lavoratori ai quali si applica il contratto dei pubblici esercizi. Noi crediamo che ci sia in questo momento un abuso, perché le lavoratrici sono fuori e altri lavoratori, molto probabilmente col contratto delle cooperative, stanno lavorando da altri appalti. Chiediamo al sindaco un intervento immediato e ripristino delle condizioni ovviamente di lavoro e di diritto degli addetti, che da oltre 20 anni stanno qui a lavorare in queste scuole. Torniamo sul messaggero nella pagina di Pescara Area Metropolitana. Pizzaiolo con la pistola, un post accusa attraverso il suo avvocato Marcello Belisario. Nega che l'arma sia sua, ma una foto pubblicata su Facebook sembra smentirlo. Sotto la data del 28 maggio un messaggio di tono minaccioso. La squadra mobile segue anche questa pista per chiarire il giallo di Rancitelli. E qui vedete proprio la foto del post incriminato. Restiamo sul messaggero. Adesso andiamo nelle pagine di Chieti. Cure primarie nell'ex ospedale, sia al bando di gara per i lavori. Il San Camillo rimane in vendita, ma serve il cambio di destinazione. La nuova struttura intanto garantirà assistenza 24 ore al giorno, grazie ai polamburatori. Gli uffici amministrativi della ASL trasferiti all'ex Inam e così metà edificio è chiuso. Poi blitz nelle scuole, la droga nascosta sotto i banchi, controlli periodici delle forze dell'ordine nelle scuole. E poi nel taglio basso, municipio, servono 200 mila euro, eseguito una stima delle opere da realizzare per Palazzo d'Achille. Nella pagina successiva, i cantieri stravolgono il piano traffico a Lanciano. L'assessore Francesca Caporale modifica la viabilità in vista della ripresa dei lavori sul corso Trento Trieste. Decisioni concordate con commercianti e residenti. La ZTL non sarà revocata a vuoto alla richiesta fatta dalla Lega. Poi andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere le pagine di Chieti. Ecco qui, verso il voto in provincia, fra Di Primio e Pupillo, spunta il terzo candidato. Scopino, braccio destro del Presidente uscente, pronto a scendere in campo. Nel centro-sinistra ci sono scontenti, domani è mercoledì, le designazioni. Andiamo nel taglio basso. Capocasa direttrice amministrativa della Asle, il manager Flacco firma la nomina per il settore rimasto scoperto. Nella pagina successiva, la ripresa del commercio a Chieti. I giovani sfidano la crisi, in città aprono cinque locali, piccoli imprenditori alla riscossa. In centro torna la pasticceria della Movida, pizze e sushi allo scalo. Scendiamo, capo gang interrogato a Caserta, il caso dell'assalto sciocca alla Villa dei Martelli, colteanu ascoltato per rogatoria. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Era depresso, sconto di pena all'omicida, delitto dell'ISA avvasto. Ecco le motivazioni della sentenza che riduce il carcere per Di Lello a 20 anni. Andiamo avanti con la pagina della provincia di Chieti. L'obitorio non è in regola a Salma, in un altro cimitero. Il caso arriva da Ortona. Poi a tollo, taglio ai fondi del masterplan, il sindaco è pronto alla protesta. Ancora i prodotti abruzzesi nei paesi dei migranti. L'idea di Fossacesia, con cui chiudiamo le pagine di Chieti per passare a quelle di Teramo. Ripartiamo dal messaggero. Buche nella strada del centro, i negozianti lanciano l'allarme. Anziana cade per colpa di un cratere, viene portata all'ospedale in ambulanza. I commercianti dicono che è una situazione grave, il comune deve intervenire subito. Il municipio ha già annunciato la volontà di vendere i mobili per finanziare i nuovi asfalti. La procedura però è lunga. Andiamo a vedere poi la pagina successiva. Quella della provincia, tutti contro il sindaco. Città abbandonata. Mastro Mauro nel Mirino, 5 Stelle. Si è candidato con annunci. Forza Italia, dialogo aperto da parte di chi sta lavorando per il centro. Fratelli d'Italia annuncia che convocherà tutto il centro-destra. La Lega invece lancia una squadra di professionisti di ogni settore. Poi per quanto riguarda la presidenza della provincia, il PD punta su Di Girolamo, sindaco di Roseto, per la successione a Renzo di Sabatino. Poi ancora picchia la moglie davanti ai bimbi e finisce nei guai. Ad Alba Adriatica, otto le famiglie povere, sostegno fino a 450 euro. Sant'Egidio e la Vibrata, giunta a fine mandato. Niente carte di identità. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul quotidiano Il Centro. Eccole qui, il racconto davanti al Papa. Ingegnere rifiuta un lavoro per non dover costruire armi. Così un giovane teramano all'Assemblea del Sinodo dei Vescovi. E poi nel taglio basso, edificio simbolo della montagna, rischia di essere demolito. E' stato lasciato in abbandono il sindaco di Fano Adriano, intima i proprietari di metterlo in sicurezza. Nella pagina successiva, oreficeria chiusa da tre mesi per un errore della burocrazia. Montorio, la questura di Fido, una ditta che non esiste dal 2013, impone di cessare l'attività di vendita. De Angelis, danno enorme, ora spero nel ricorso al tar. Robi Nude si appella al difensore civico. Nel taglio basso, non fa vedere i figli all'ex madre a processo. Donna accusata di aver violato l'obbligo imposto dal giudice per le visite ai figli dopo la separazione. Giulianova, un uomo di 53 anni, perseguita l'ex fidanzata e finisce ai domiciliari. Andiamo ad aprire le pagine di Teramo sulla città. Ripartiamo dalla cronaca giudiziaria. Crac, Curti, Di Pietro. La Cassazione conferma le condanne. Sei anni gli imprenditori teramani Guido Curti e Maurizio Di Pietro per una bancarotta da oltre 20 milioni di euro. Le accuse, secondo l'inchiesta della procura di Teramo, avrebbero fatto fallire società per dirottare soldi all'estero. Nel taglio basso, sfregiata la testa del leone di bronzo della villa comunale, la segnalazione da parte dell'assessore Mistichelli, l'opera d'arte del maestro Venanzo Crocetti. Pagina successiva, il cantiere, un incontro sulla rotonda di Villa Pavone. Il consigliere comunale Corona chiede di fare chiarezza sullo stop dei lavori che dura da giorni. Parte il restyling di una parte di Cartecchio in vista della festa dei rifunti. Sono iniziati i lavori solo nella porzione della confraternita della Madonna del Carmine. Poi ancora PD, gioco a rialzo per il candidato presidente Tommaso Ginobles, sfida le correnti interne del partito proponendo il nome del sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo. Fattore Teramo, la strada per Via Milli passerà attraverso l'approvazione della maggioranza del capoluogo. Poi ancora serie di incidenti per il semaforo spento, l'incrocio tra Via Lecrispi e Via Roma è diventato ad alto rischio. In provincia la vallata Delfino è ancora all'anno zero, viaggio tra le strade disastrate e le potenzialità turistiche enormi che nessuno riesce ancora a sfruttare a pieno. Poi DNA e autopsia per identificare la mummia. La procura affida gli esami per avere conferme sul corpo trovato a Martinsicuro, era scomparsa nel 2009 l'associazione Penelope, che si occupa proprio delle persone scomparse, critica il pressappochismo con cui sono state condotte le ricerche di Marisa Cristante, 86 anni, originaria di Venezia. Le dimissioni del sindaco, siamo a Giulianova, è già iniziata la campagna elettorale giuliese, girandola di reazioni, proposte politiche e critiche dopo l'addio di Mastromauro per la candidatura alle regionali. La morte di Marco Calabretta ha chiesto il processo per l'infermiere dell'ambulanza, udienza preliminare fissata per l'11 di dicembre, l'uomo è accusato di non aver utilizzato prontamente il defibrillatore. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le pagine dell'Aquila. La ricostruzione difficile in centro, pratiche in ritardo di 5 anni, riedificazione lenta a macchia di lopardo con i cantieri che soffocano chi è rientrato dentro le mura. E poi nel taglio basso, Camera di Commercio, una poltrona per due, nuova governance dell'ente Gran Sasso d'Italia, in ballo la presidenza ai nomi di Zippigli e Lanciotti. Sciacalli scatenati, rubate le sigarette, svaliggiano il bar durante la veglia funebre, ladri in azione ha scoppito, i titolari del locale avevano chiuso per lutto partecipando al dolore della famiglia Grego. E poi ancora, ristoratore trovato morto nel suo letto a Pratola, liberatore ucciso da un malore. Scendiamo nel taglio basso, morto nella clinica fatale, un overdose a Vezzano, prime risposte dall'autopsia, illegale, droga in una struttura protetta. Come è possibile? Nella pagina successiva finisce a coltellate la lite tra due braccianti agricoli, violenza a Borgo, strada 14 a Celano. Entrambi i feriti verranno denunciati, il più grave raggiunto da un fendente all'addome, nuove proteste sulla sicurezza. E poi ancora nel taglio basso, Boleo al vertice di MCL Avezzano, l'iniziativa obiettivo Marsica si presenta, abbattiamo i campanilismi e poi gemellaggi in Ungheria con la delegazione di Pescina. Le pagine dell'Aquila sul messaggero, eccole qui, favore al marito per i funerali, scontro sulla dirigente comunale, titolo di apertura di pagina, dipendente sotto inchiesta con l'accusa di aver favorito la ditta di onoranze funebri, c'è chi all'interno dell'amministrazione aveva chiesto il suo spostamento in un altro ufficio. Il custode del cimitero, padre Nello Greco, ha raccontato le lagnanze delle altre imprese. E poi scendiamo nel taglio basso, Petrocchi consacra la città alla Madonna di Fatima, la chiusura dell'anno mariano si terrà sabato alle 21 a San Bernardino e non più a Collemaggio. Poi ancora all'Aquila, numeri civici stop alla deregulation, tanti immobili in centro ancora ne sono rimasti sprovvisti, tra questi c'è anche la sede del municipio Palazzo Fibioni. C'è anche chi non ha rispettato i dettami dell'apposita commissione, dopo il 22 ottobre approderà in consiglio il nuovo disciplinare. Nella pagina successiva, quella di Avezzano Sulmona, mercato, braccio di ferro con gli ambulanti, siamo ad Avezzano. Ieri il Comune ha ospitato i rappresentanti dei commercianti per l'assegnazione delle piazzole nella zona nord. Non ci sarebbero spazi sufficienti per permettere a tutti i 150 esercenti di piazzare le strutture, mancherebbero circa 300 metri quadri. Adesso andiamo nelle pagine di Sport, vediamo se riusciamo a visualizzare. Ecco la pagina dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Pescara, machine goal, nazionale e rinnovo. Su di lui il patron Sebastiani ha scommesso parecchio, ora è convocato in Coppa d'Africa. Folla di osservatori all'Adriatico con gol, Pilon ha saputo inserirmi con gradualità. E poi ancora Gravina, candidato unico alla presidenza della Federcalcio, all'appoggio soprattutto della Lega Pro e della Serie D. E poi nel taglio basso, a quest'apone, con le sedi dell'Elite Round, Barcellona, Lisbona, Crudim e Vilnius ospiteranno la sfida fra le top 16 d'Europa. Si è infortunato il portiere Casassa. Andiamo a vedere l'apertura dello Sport sul centro. Serie B, la capolista Pescara, Leone, gruppo e umiltà, così il Pescara detta legge. Il DS è presto per parlare di obiettivi, il campionato si deciderà a marzo. Il dirigente Biancazzurro predica prudenza, sulla carta almeno quattro club hanno costruito rose di grande valore. A Città Sant'Angelo da oggi pomeriggio si torna a correre al Poggio degli Olivi dopo lo stop, la pausa per riprendere fiato. Dopo il doppio turno della settimana scorsa, Pilon è stato bravissimo a creare un'atmosfera serena e piacevole. Continua Leone, a Mancusa auguro di continuare su questa strada perché è un ragazzo straordinario, queste le parole, nell'intervista di Luca Leone. Poi, gli annascoli Sebastiani, altri 15 giorni di attesa, il Tribunale delle imprese dell'Aquila prende tempo per decidere sulla querelle societaria. Andiamo in Serie C, sempre sul quotidiano Il Centro. Il Diavolo in difficoltà, Teramo a secco di vittorie, ma c'è fiducia in Zichella. Il DG Capaldi, responsabilità di tutti, l'allenatore farà i correttivi giusti. Non convincono il 4-3-3 e alcune scelte tecniche. Ora tre gare in otto giorni per il Teramo. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo, anche per quanto riguarda il messaggero. Diavolo, che crisi, tutti i responsabili. Il Teramo ancora senza vittorie, il Vicepresidente Cimini. Campitelli, bersaglio delle critiche sui social, ma le colpe sono anche di DS, allenatore e giocatori. Titolo sul Teramo, anche per quanto riguarda la città. Rimini, ultima stazione per il Diavolo. Rosa, per certi versi incompleta, un modulo inadatto agli interpreti in campo. Sabato, snodo fondamentale, ma la posizione dell'allenatore è a forte rischio. Modulo da rivedere. Il 4-3-3 non sembra dare le certezze ad una squadra che deve puntare alla salvezza. Le uniche certezze dalla Rosa che stupì tutti e vinse la C, solo caidi e speranza. Continuano ad essere punti di riferimento. Gara senza ritorno, un risultato negativo può segnare la fine dell'esperienza di Zichella, che sarebbe non più difendibile. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro. Andiamo avanti con la Serie D, gli abruzzesi del girone F di Giovanni. San Nicolò Notaresco, la mia capolista, a sorpresa. Il Presidente, stesso budget dell'anno scorso e tanti giovani di valore. Ad Avezzano, incontro decisivo Paris-Giampaolo. Avvasto avanti con Palladini, Avezzano e Vastese. Le due squadre in crisi di questo avvio di stagione. Nel taglio basso, l'eccellenza Lucarelli. Chieti, desiderio realizzato. Eccellenza, il nuovo tecnico punta la spunta su Montagni e Piccioni. Domani il debutto, il tecnico punta a far risalire rapidamente la squadra del capoluogo. E poi promozione, capolista Schiacciasassi. Tutti appunti i nuovi allenatori per quanto riguarda i dilettanti. Andiamo a vedere sul Messaggero le altre notizie per quanto riguarda la Serie D. Il San Nicolò notaresco tutto cuore. Il sogno continua con il Rosso-Blu. Quota 5 vittorie e 12 gol realizzati. Quattro reti subite. Poi il Real si rituffa in Coppa. Al Fadini arriva il Cassino. Mister Stallone domani non potrà schierare. Disqualificati Ferrante, Del Grosso e Tossi-Borsoi. E poi Francavilla-Rachini a Cesena. Una sfida stimolante. Chiaramente un campo prestigioso quello di Cesena. E poi Vastese resta Mister Palladini. La decisione presa dopo un vertice societario con il patron Bolami. Per quanto riguarda l'Avezzano, patron Paris decide con calma. Il basket Roseto ha pagato l'emozione dei debuttanti. Il coach d'Arcangeli analizza la prima sconfitta a Mantua. Rapidamente chiudiamo con il centro. Il basket di Serie B. Teramo Amatori promette spettacolo. La Teate Gongola. Domenica il primo derby abruzzesi con i pescaresi su di giri. La Deca Press che tocca quota 500 abbonamenti. E poi ancora d'Arcangeli. Roseto testa bassa e lavorare. Per quanto riguarda gli A2 di Sharks a Mantua. Tra ingenuità e buone indicazioni. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi. A partire dal TG6 delle 14.00. Le altre due edizioni alle 19.00 e alle 23.00. Poi l'appuntamento alle 21.00 con Proteramo. Per approfondire la situazione non facile del diavolo bianco-rosso. È tutto davvero. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.